Enesimo arresto anche per i carabinieri in quella che è una vera e propria lotta ingaggiata in queste settimane dalle forze dell'ordine di Cremona contro il fenomeno dei furti in appartamento. In manette sono finiti due albanesi pluri pregiudicati con profili criminali di tutto rispetto per quel che concerne reatti contro il patrimonio. Si tratta del 29enne Denis Bardi, del 27enne Spartak Oxa, entrambi senza fissa di mora e senza lavoro se non quello di svaliggiare case. Sono stati catturati dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo un lungo inseguimento nella zona di via Castelleone. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata ieri sera attorno alle 19 da un residente allarmato per la presenza in via Antonio di Dio di due sconosciuti. La centrale operativa ha quindi diramato la nota che ha interessato anche l'elicottero della compagnia di Orio al Serio, un velivolo speciale dotato di apparecchiature sofisticate che lo rendono in grado di operare anche nell'oscurità e utilizzato in questi giorni dalla compagnia di Cremona per intensificare i controlli sul territorio. Gli elicotteristi hanno individuato uno dei due banditi, il palo, e fornito le coordinate ai colleghi della radiomobile che sono intervenuti. Alla vista dei militari, i due ladri si sono dati alla fuga in direzioni opposte, inseguiti a breve distanza dai due carabinieri dell'equipaggio. Il primo bandito è stato acciuffato in via Castelleone, il secondo dopo una corsa di circa 600 metri in una via secondaria dopo che aveva cercato di scavalcare una recinzione. Ammanetati sono stati portati in caserma. Addosso ad uno dei due è stata trovata la rifurtiva, oro, orologi, profumi e denaro contante, portati via da un appartamento di proprietà di una signora di 59 anni non in casa al momento del furto. L'altro è stato invece trovato in possesso di un arnese da scasso, un pezzo di ferro forgiato non a caso in modo artigianale, proprio per eludere eventuali controlli e spacciarsi, come in effetti hanno tentato di fare durante l'interrogatorio, per due muratori. Non solo, i carabinieri hanno trovato nel portafoglio di OXA 8 banconote false da 50 euro. Per questo lui è stato contestato anche il reato di spendita di banconote false, oltre che di furto in concorso e possesso di arnesi atti allo scasso. I carabinieri stanno svolgendo indagini per verificare se in alcuni negozi e centri commerciali della città i due siano riusciti ad utilizzare il denaro contraffatto. Questa mattina gli arrestati sono comparsi davanti al giudice per la direttissima che ha convalidato i fermi. Per il più giovane è stata decisa l'espulsione immediata e il rimpatrio, mentre per Bardi si sono aperte le porte del carcere di Cadelferro.